Ecco a voi un amico del vino italiano, Carlo Filiberto Vleggi, vicepresidente nazionale del Movimento del Turismo del Vino. Siamo qui per presentare nella prossima puntata di Girovagando un grande evento, Cantine Aperte. L'appuntamento quando? Il 25 maggio, come da 22 anni a questa parte, Cantina Aperte in tutta Italia, ma anche in Trentino Alto Adige perché Girovagando in Trentino è l'ambasciatore della nostra regione e quindi andiamo a vederci il sito di Girovagando, andiamo a vedere il sito del Movimento Turismo del Vino che vi ricordo www.movimentoturismovino.it nelle quali ci sono tutti i programmi delle mille cantine italiane che ospiteranno oltre un milione di enoturisti in Italia, quindi la più importante manifestazione italiana legata al mondo del vino. Vi ricordiamo dunque domenica 25 maggio, Cantine Aperte, giunta quest'anno alla 22esima edizione.